Immagini di ricordi dell'Aquila, i suoi luoghi, le sue piazze, gli aspetti più particolari della città. Le foto saranno pubblicate sul sito internet del turismo del capoluogo d'Abruzzo www.quilaquila.it. Questa iniziativa denominata la mia l'Aquila è stata lanciata dall'assessore al turismo del comune dell'Aquila Fabrizia Quiglio, un'operazione per mantenere viva la memoria. In questi giorni infatti dice l'assessore il vuoto è tornato a riempire le piazze, le strade e i vicoli della città dell'Aquila. Per questa ragione abbiamo pensato che possa essere di supporto alla cittadinanza nell'assenza dei contatti mantenere viva la memoria. Coloro che avessero il piacere possono infatti inviare le foto dei monumenti, aspetti particolari, angoli suggestivi della città e del suo territorio all'indirizzo turismochiocciolaquilaquila.it. Pione della memoria, un'operazione per mantenere vivo il contatto sociale con la stessa città, nella quale continua ancora l'opera di ricostruzione e di rinascita. Chi fosse interessato può inviare le immagini indicando nella mail il titolo della foto, il periodo in cui è stata scattata e corredando la deliberatoria firmata. Le foto saranno pubblicate sui social Facebook e Instagram dell'assessorato al turismo nel Comune dell'Aquila Grazie a tutti!